Benvenuti al nostro Makna Tech Lab, oggi vi vogliamo presentare la giacca Territor, giacca che esiste sia nella versione maschile che nella versione femminile. Un due strati, ma un due strati quattro stagioni, perché? Rinforzi sulle spalle in ripstop, giacca in softshell molto leggera e molto calda. Perché dico che si può utilizzare in tutte le stagioni? Perché abbiamo dei sistemi di ventilazioni sulle maniche, un sistema di ventilazione frontale con la possibilità di avere lo spazio del mesh e quindi il passaggio dell'aria. Nella parte posteriore abbiamo l'uscita dell'aria e abbiamo il nostro cappuccio con il suo blocco. Regolazione in vita e alta visibilità. Quando andiamo ad aprire la giacca, quindi aprendo la zip, in questo caso troviamo il piumino interno, ed è il piumino interno che è impermeabile, quindi rende la giacca esternamente molto leggera, ma all'interno molto calda ed impermeabile. E questo ci consente veramente di utilizzare la giacca in tutte le stagioni, a seconda delle condizioni climatiche. Vi consigliamo di andare a visitare il nostro sito makna.com per vedere tutti i colori disponibili.